Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il segno di quello che magari poteva essere la partita, no? Ma sì, iniziamo buona domenica e poi quando inizia buona tutto il resto arriva, così semplice. Buona partita, primi 20 minuti giochiamo bene, poi un po' brutto perché quando sei 20 punti davanti è una storia differente. Ma da adesso vediamo. Senti, questi due giorni di lavoro su cos'è che avete lavorato di più? Ma guardiamo video da partita in domenica, guardiamo dove sono le nostre brutte cose e su prossima partita facciamo meglio. Facciamo meglio. Insomma, si va lì cercando di chiudere subito la pratica, però Faenza non è mai un campo semplice, nonostante quest'anno, a parte la prima partita, poi sia in campionato, sia in Coppa Italia, sia domenica. Insomma, Schio ha fatto vedere che contro Faenza probabilmente ha qualcosa di più. Sì, è vero, questo campo è più duro, però il nostro gol è che vinciamo e chiudiamo questa seconda gara con vittoria e poi avanti. Grazie.